Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Dai, 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 baby. Dai, baby, dai, baby, che si lavora, dai, baby. Insomma. Insomma, insomma, insomma. E uno guadde euforia subito? Dai, baby, brava, baby, brava, baby. Euphoria, un bet novanta. Cazzo. Sì, baby. Vai 17 bonus, ancora 20 euro c'ho da poter spinnare Oh bella Faicon, grazie per i 100 Dai i gabbroni sbanca 9 stipendi di Flame Ma secondo te è bravo come stre... Ma per dare il bonus Sono tre di quei di me Gabe saluta Bea per il secondo mese di fila Saluta Bea Un bacio piccolo Grazie a Tom Jo per i 4 Ma quanto è cazzo che Shabba sta regalando Redwood Ma è impazzito che ho fatto Gab vai a rubare, è quello che faccio ogni giorno ai ragazzini d'Italia Non è vero Ti hai dato 200 euro solo per entrare Cioè adesso... Rischio, rischio No, ma che rischio, bro Hai fatto una foto, bro? Fai una foto a sto book Sì, aspetta, abbiamo preso 200 euro così Eh, ma è sempre... Eh, ho capito Prendimelo a me Stiamo andando via No, adesso andiamo a via Scusaci Preleviamo Sì, 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 preleviamo tutto Ebbè, il film di 50 Cent l'hai visto? No No, dico a Daddy Come si chiama? Eh, get rich or die trying Tipo E' la storia di 50 Cent, è bellissimo Oddio, oddio Oddio, oddio Oddio, pepi Rosa Pepi No, ero Pepi 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 Va di lui 20 euro sulle side Bruti, prego Prendila, prendila, prendila È triste Lo sapeva lui Lo sapeva È triste Meglio a lui che a me, porco Dio Scusami, ho soltato l'otto a Silvia Quanti cazzo sono? 600 euro di side totale 7,60, dai Più 120 Più il colore da quell'altra parte, bro Porco Dio Più 220 Porco Dio, ritarei un botto dal pozzo È impazzito 20 giri Modilissimi, così, eh Che bastardo Una bella full page di sti stronzi col per 10 Michelle, l'ha dimediato un caricatore? Mi sono scordato Gab ha un caricatore da pressarmi dell'aria Minchia, brudi Perco Dio Hai un caricatore per caricare questo? Legion Gold bet 60 centesimi Wild Force bet 60 centesimi Grid of Wolf bet 60 centesimi Book of Leop bet 50 centesimi VX Force bet 60 centesimi Sabaton bet 60 centesimi Perret Gold Earth bet 60 centesimi Must Tank Gold bet 70 centesimi Rise of Death bet 60 centesimi Invading Veil Gas bet 60 centesimi Snake and Leather Size bet 50 centesimi Book of Leo bet 1 euro Ciliate bet 50 centesimi Freakland Monty bet 80 centesimi Book of Golden Sun bet 1 euro Spicky Blinders bet 80 centesimi Spirit of Adventure bet 70 centesimi Dai, iniziamo raga Primo bonus Book of Dead bet 80 Sei caldo, Dardy? Sei pronto? Qual è il tuo pronostico Per questa bonus Secondo me 900 900? Io dico profit Mille e cinque Anzi, dico che esplode qualcosa, bro Facciamo molto Facciamo preso Metti 10 euro 1% mio 1% è tuo, fastì 1 euro Eh sì, sì Faccio questo lean Perché è il mio lean questo Ti ricordo che non gioco Ma preferisco guardare Appunto grande game Grazie ad anger Ma perché non carica il power? Per i 4, bentornato Bene raga Partiamo con la terza Partiamo con la terza Ah chi è? Scarolino? Non ci credo Abdul Abdul Io non ho visto No, vai tranquilla Non ci credo Mr Rizzus Abdul Mr Rizzus E Sferbasta Ovviamente Li riconosco tutti Bro, ma quello Quello è quello che Com'è che si chiamava Quello di Tutti i soldi Raga com'è che Sì ho visto che è sceso Non mi sono limitato Grazie, non mi schifo Ma ci sono una formazione Lo becchierò lì Dopotutto anche questa Ma toccava a me bro No Toccava a me Sicuro? Sì Cosa vuoi fare? Non è, non è Five lights La normale Non me che vuoi Va bene Che hai mangiato te? Che cosa? Grafiche E quando escono le musiche Che cazzo Che ha scorreggiato? Cosa? C'è anche una specie di scorreggina Sarebbe male Cazzo C'è da dire che bro Eri anche più giovincello Oddio non è passato tanto Cosa significa più giovincello? Di cosa stai parlando? Che ora sei vecchio E ormai sei vecchio Ormai però Vabbè ci sta Scherzando Tu dico quanti anni hai Beh poi lo stava di noi Bibo Te sei pure più grande di me Mi sa Io so più grande di lui Di un anno Io potrei essere vostro padre Bene però cazzo Va bene Quella Starlight Praticamente Porco Dio La Starlight 150 La Gates 130 Saldo Chi le sarà no? Saldo 987 Raga 9 e 87 Cazzo Cazzo Calma Mancano 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 8 di bonus Mancano 8 Grazie 2 metri 5 Dai Non l'ha preso un quarto Che merda No vabbè ma che cazzo stai a dire D'augurio E la madonna puttana Questo è un po' Oddio quanti sono bro Quanti cazzo sono? Oddio 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 frate Oddio Oddio Mi hanno fatto la stessa identica cosa La Dolphin Pearl Ma che è? Ma che è? Che carino Che carina questa pagata esotica I blumo No peccato Le cucciole Le cucciole chiuse in quel modo Doppia linea pure Vabbè sono entrato a 600 eh Si galleggio Come degli sconsi in mare aperto Felipe Grazie per gli otto Bentornato Sono il tennis mano io ragazzi Porco dio bro ho perso tutti i punti canali 1627 euro zio puercos bro E abbiamo ancora 5 bonus da apri Il tennis mano ha compito ancora Cazzolina brudi Ti ho detto Daddy che Magari è Michel Cazzolina 166 di saldo Buono Ci riteniamo tutti eh Si si Io ho solo una slot Ci riteniamo tutto il profit 5.000 sempre Mi sa Non lo so Ciao Due cappe e mezzo Con gli scatter paga Madonna che pagata E quella è la pagata più grande Eh immagino 5 scatter Più di full page di Goofy Ah è full page di Goofy E' quasi impossibile Madonna Quasi lo trovo Nooo